Continua la gara, chiaramente per quanto riguarda la categoria giovanissimi, ancora da ascoltarne un paio Eccola qui, la prossima concorrente viene a trovarci da Roma Un applauso per, vorrei che sta per esibirsi in occasione di questa finalissima del Giro d'Oro 2010 Allora Valeria, vai, a questo punto? Qui con noi stasera abbiamo Aurora Marcella Marcelli, io al padre l'ho chiamato Marcello, penso no, mi perdono Allora, ciao Aurora, tutto bene? Sì, tutto bene Ricordiamo quanti anni hai? 12 12 anni e ci vieni a trovare da Roma, ho detto bene, questa sera cosa ci fai ascoltare? Che mistero è l'amore di Niki Nicolai Che mistero è l'amore di? Niki Nicolai Niki Nicolai, va bene, allora, sei pronta? Signore e signori, Marcelli Aurora Applausi Ecco un libro e penso a te Cambio casa e penso che Non troverai la strada Una stella e penso a te Vivo sola e penso che Non so Parlarti e non parlare più con te Amare non amando te Metà di questo cuore lontanissimo Metà sospeso Che l'alpa che illumina Un mondo che non c'è Troverò La strada Lacri In me Nel live In me Sopo Che Resta in me E mistero è Un mondo che non c'è Troverà lacrime Nell'inizio è un mondo che Resta in me E mi spero E mi spero E mi spero Ciao Saluteci Roma Ciao Allora a questo punto Andiamo velocemente